buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a refresh questa mattina inizieremo insieme la giornata con la lettura dei quotidiani iniziando come sempre dalle prime pagine nazionali almeno dei tre quotidiani principali che hanno poi ovviamente delle cronache anche locali iniziamo proprio con la repubblica attacco alla democrazia queste sono parole di landini segretario della cgl perché l'apertura diciamo sul sciopero ridotto a quattro ore sarà su molti quotidiani nazionali ma vedremo le aperture non sono completamente omogenee intervista landini il ministro e il garante hanno calpestato la costituzione ora la premier ritiri la precettazione salvini provoca sto lavorando sul diritto di sciopero ma palazzo chigi lo smentisce lo stop dei trasporti ridotto a quattro ore sapete che il ministro dei trasporti ma la meloni ha già detto è stata una decisione collegiale aveva precettato appunto lo sciopero di venerdì cgl e will tengono il punto sullo sciopero contro la precettazione del governo e costringe governo che costringe a uno stop di sole quattro ore domani nei trasporti ora minacciano di impugnare il provvedimento davanti al tar non solamente questa notizia ovviamente che l'apertura di repubblica ma anche l'incontro importantissimo di ieri sera ieri sera ora italiana la mano tesa di xi a biden il presidente americano è incontrato a san francisco il presidente cinese era un anno che non si parlavano naturalmente è un incontro dal quale non uscirà non è uscito sicuramente una risoluzione dei vari conflitti mondiali e non solo perché si parla naturalmente anche della crisi diplomatica che riguarda taiwan per quanto riguarda proprio cina e stati uniti ma insomma è stato molto importante che si fossero si siano tornati a parlare altra notizia che troveremo sulle aperture di tutti i quotidiani è questa riguarda la guerra in medio oriente ostaggi e stallo sui negoziati e intanto è stato distrutto ieri il parlamento di hamas dopo la foto simbolica dell'esercito israeliano all'interno del parlamento adesso è stato proprio fatto saltare questa è un'altra foto che farà la storia il prima il dopo dell'esplosione del palazzo del parlamento di gaza e ancora sapete si è parlato nei giorni scorsi dell'accordo tra il governo italiano e l'albania per i migranti insomma andrebbero in albania un 39.000 era stato stabilito migranti solamente uomini ecco c'è ovviamente un tutto un dibattito che riguarda i diritti umani in questo caso su repubblica c'è l'intervento della commissaria europea agli affari esteri joan johnson e che dice l'accordo italia albania sui migranti non viola il diritto comunitario perché ne è al di fuori intanto viene annunciato che l'avvocata buongiorno julia buongiorno per conto della consap che è la concessionaria servizi e assicurativi pubblici lo stato italiano non ha alcuna intenzione di risarcire i superstiti del naufragio di cutro e i familiari delle oltre 100 vittime naturalmente anche altre notizie che troveremo anche sui altri giornali soprattutto il fantasinner campione a 22 anni come tomba erosi è stato proprio lo stesso tomba a dire lui è come me andiamo a vedere invece adesso l'apertura del corriere della sera lo vedete in questo caso due le notizie che il corriere della sera vuole mettere in prima pagina il raid nell'ospedale di gaza perché ovviamente ieri lo sapete insomma oltre ad aver fatto saltare il parlamento palestinese i militari israeliani sono entrati anche nelle corsie è un covo di terroristi dicono l'avviso dell'iran ad hamas non entriamo in guerra la trattativa intanto che sta andando avanti potrebbero esserci 50 ostaggi che hamas libererebbe in cambio di tre giorni di tregua ma anche in cambio di altri prigionieri palestinesi che sono in questo momento nelle prigioni israeliane lite intanto tra tagliani e conte su israele conte ieri in parlamento ha dato diciamo del codardo al governo tagliani gli ha risposto e insomma c'è stato un botta e risposta piuttosto acceso tra i due raid dei militari israeliani nell'ospedale di gaza dove si sarebbero rifugiati anche alcuni miliziani di hamas continua la trattativa per arrivare alla liberazione di alcuni ostaggi la nuova proposta prevede di lasciar tornare a casa 50 rapiti in cambio di tre giorni di tregua nei combattimenti l'iran precisa non entriamo in guerra per hamas e divanta in aula appunto la lite tra tagliani e conte in prima pagina la fotonotizia che sceglie il corriere è proprio quella della stretta di mano tra biden e xi l'incontro la rivalità non sia conflitto si è anche detto c'è spazio per entrambe entrambe ovviamente si riferiva alle superpotenze trasporti sciopero dimezzato salvini ha vinto il buonsenso sciopero i sindacati riducono il blocco dei trasporti di quattro ore salvini appunto ha vinto il buonsenso e landini che gli risponde nessuna intenzione di fermarci però la decisione di ridurre appunto a quattro ore lo sciopero è perché la precettazione avrebbe implicato delle penalità per i lavoratori che appunto i leader di cgl e will perché lo sciopero era stato indetto solo da questi due sindacati la cisla era contraria ha preferito appunto uno sciopero di quattro ore ridurlo insomma patto di stabilità poi anche questa notizia sul corriere della sera i vertici del piano è un articolo di federico fubini danni le diplomazie finanziarie europee non passano giornate non passavano giornate così intense domani a berlino si vedono christian linder e bruno lemer ministri di germania e francia prima e dopo quest'ultimo sentirà giancarlo giorgetti sapete che sull'economia soprattutto l'europa insomma inizia sempre da accordi tra francia e germania diciamo storicamente e passiamo adesso a la prima pagina eh del tirreno eccola qua eccola qua eh l'apertura del tirreno è ancora diversi e riguarda è diversa e riguarda comunque una questione che ehm interessa molto eh ne abbiamo parlato tantissimo anche noi nei nelle settimane scorse la Toscana e soprattutto Firenze ma anche Pisa affitti la giungla si infittisce eh ricordate scrive il terreno gli studenti che piantarono le tende davanti alle principali università italiane chiedevano più alloggi e meno costosi oggi le tende della protesta non ci sono più ma il problema è rimasto invariato le case sono sempre più introvabili e i prezzi sono addirittura aumentati anche in Toscana soprattutto nelle città di eh Firenze e eh Pisa eh in prima pagina eh il tirreno sceglie di mettere una eh fotonotizia di un evento che è in corso ieri ma anche oggi a eh Palazzo Vecchio imprenditori esperti e politici al festival salviamo la terra solo la sostenibilità ci garantirà il futuro nel salone dei 500 a Firenze la prima giornata del festival salviamo la terra organizzato dal gruppo SAI di cui il tirreno fa parte sui tenemi della sostenibilità ambientale economica e sociale tra gli ospiti il ministro Salvini che era in collegamento il presidente Gianni Ian Miller che è il presidente della National Geographic Society Society oggi appunto c'è la eh seconda giornata e ovviamente il tirreno anche eh dà spazio al fenomeno Sinner tre milioni incollati alla tv l'Italia ha il suo nuovo tomba tra l'altro Sinner eh da piccolo era già un campione nello sci poi ha scelto il tennis perché lo riteneva più divertente eh è stato lui a dirlo da solo sta sfidando il re pallone una sera era il 27 febbraio 1988 il festival di Sanremo si fermò perché un ragazzone emiliano Alberto Tomba aveva stava per vincere l'oro nello slalom speciale a Calgari e un po' il percorso che sta facendo anche Sinner diamo un'occhiata anche alla eh prima pagina della nazione vediamo di trovarla eccola qua una nazione che come sempre eh dà spazio a una fotonotizia in prima pagina ora una legge a chiederlo è la madre di Luana lo sapete dopo l'ennesimo l'ennesima morte sul lavoro di una ragazza molto giovane proprio come lo era Luana serve una legge adesso e eh poi il titolo in alto è sciopero ridotto i sindacati si eh adeguano mh io direi che possiamo forse sentire adesso eh insieme guardare l'almanacco del giorno buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è il 16 novembre si festeggia Sant'Agnese d'Assisi il nome Agnese deriva dall'aggettivo greco agnos e significa pura casta dice il proverbio l'oliva tanto più pende tanto più rende sono nati oggi tazio nuvolari giosè saramago joaquin navarro vals il 16 novembre 1965 l'unione sovietica lancia venera 3 una sonda spaziale diretta verso venere la sua missione era un atterraggio programmato ma si schiantò sulla superficie venusiana diventando comunque il primo oggetto costruito dall'uomo ad atterrare su un altro pianeta il 16 novembre 1945 a Londra viene fondata l'unesco l'organizzazione delle nazioni unite nata per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nella cultura e la scienza oggi la sede è a Parigi e sono membri dell'unesco 194 paesi il 16 novembre 2001 esce nelle sale harry potter e la pietra filosofale è il secondo film nella classifica di incassi di tutti i tempi secondo solo a titani cesare pavesi ha detto l'ozio rende lente le ore e veloci gli anni l'operosità rapide le ore e lenti gli anni arrivederci da barba nera dal 1762 dal manacco più amato d'italia prima di leggere insieme le prime pagine locali un attimo di pubblicità co-op è felice di annunciare la nascita degli spesotti la nuova linea con la qualità co-op super conveniente con ben 270 prodotti anzi 271 vieni a conoscerli tutti la co-op sei tu come vorresti che fosse il futuro lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno noi di estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni e la nostra risposta è quello che vorrebbero si può fare una poesia che parli di risparmi d'energia scopri come sul sito bilancio di sostenibilità punto estra punto it a firenze si festeggia il natale torna il prestigioso e storico mercato di natale tedesco di piazza santacroce dal 18 novembre al 17 dicembre un villaggio natalizio con tante idee regalo per informazioni visita il sito www.mercatoeuropeo.net slash natale santacroce o seguici su facebook preparati a un risveglio spaziale da oggi c'è laila dormi bene gommose con melatonina e cinque estratti naturali nuovo laila dormi bene dormita galattica risveglio spaziale è dalla terra che si prende il volo per questo abbiamo sviluppato insieme a sant'anna di pisa un piano di interventi a favore dell'ambiente e per la comunità l'aeroporto sostenibile è il nostro impegno perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri toscana aeroporti come vorresti che fosse il futuro lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno noi di estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni e la nostra risposta è quello che vorrebbero si può fare una poesia che parli di risparmi d'energia scopri come sul sito bilancio di sostenibilità punto estra punto it eccoci qua ben ritrovati a refresh iniziamo allora adesso a sfogliare i quotidiani locali iniziamo dal corriere fiorentino l'apertura è spaccate numeri shock e delusione ha annunciato l'istituzione di un fondo per i sistemi di allarme e l'arrivo di agenti conf commercio non c'è contezza del problema in sei mesi 180 colpi uno al giorno i commercianti sul vertice in prefettura hanno detto è stato insoddisfacente c'è stato ieri appunto un cosp un comitato per l'ordine la sicurezza non è stato il primo insomma era un appuntamento a cui i commercianti tenevano per capire cosa avrebbe fatto il comune ma evidentemente c'è stata delusione sulle dopo le molte spaccate anche nei giorni scorsi a esercizi commerciali ma non solo ieri è stato è stata rotta con un tombino anche la vetrina del principe il cinema principe a firenze censimento dei danni in 60 comuni parliamo di alluvione in comuni alluvionati solidarietà e max intesa regioni sindacate e sindacati e imprese insieme il presidente della regione gianni ha firmato l'ordinanza per avviare ufficialmente la conta dei danni nei 60 comuni più colpiti dall'alluvione del 2 e 3 novembre sindacati e imprese firmano un'intesa per donare un'ora di fatturato stipendio a chi è stato messo in ginocchio dal maltempo mentre pelù e massini annunciano un concerto di solidarietà e poi gestori degli affitti brevi il tar contro nardella come una dittatura quello di palazzo vecchio un abuso di potere se una legge dello stato non piace il comune non può crearsene una su misura è una cosa che fanno le dittature così il CEO di l'amministratore delegato di apartments florence e presidente dell'associazione property managers italia e appunto il riferimento ovviamente alla legge alla legge alla norma che il comune di firenze ha emanato sul divieto di nuovi airbnb abusi su pazienti minorenni arrestato psicologo andiamo appunto a sfogliare il quotidiano la costola fiorentina il corriere della sera delusi dopo il vertice in prefettura ci hanno invitato all'autodifesa ora i commercianti chiedono risultati e poi c'è questo bando da 1,2 milioni di euro per i negozi sicuri e andando avanti sul corriere via la conta dei danni in 60 comuni un'ora di stipendio per gli alluvionati gianni firma l'ordinanza per il censimento tra imprese e sindacati un'intesa storica per la solidarietà campi poi 60 mila libri da buttare in teatro una sala per i bimbi ne parleremo fra un attimo perché riguarda proprio anzi la leggiamo subito perché nella stessa pagina il corriere massini e pelù un concerto di beneficenza con fiorella mannoia su questo appunto abbiamo seguito anche noi la conferenza stampa di ieri di pelù e massini possiamo vedere il servizio lo dico per la regia è il numero 5 questa serata ci saranno molti dei nomi più popolari più amati della canzone italiana cantautori e cantanti ogni genere di personaggio che appunto abbiamo contattato in questi giorni per avere un cast il più importante possibile si chiama toscana in friends ripartiamo il concerto evento di raccolta fondi per gli alluvionati della toscana che si terrà il 3 gennaio al tascani hall di firenze i biglietti saranno in vendita da martedì cerimonieri dei moltissimi artisti che stanno aderendo sono fiorella mannoia piero pelù e stefano massini è stato proprio massini che a campi bisenzio vive ed è cresciuto a lanciare l'idea subito accolta da pelù e dagli altri artisti noi ci auguriamo che questa serata che lanciamo non a caso oggi serva a raccogliere fondi indipendentemente dal biglietto comprato ma che ci siano aziende di ogni dove che non hanno subito alluvione a milano a roma a bologna che decidano di contribuire noi artisti abbiamo la voglia proprio di di stare vicino alle persone perché le persone sono anche quelle che ci vengono ad abbracciare ad applaudire a sorridere durante i nostri spettacoli il concerto sottolinea pelù avrà una scenografia minimal non ci saranno effetti speciali proprio perché ogni euro sarà indirizzato a progetti che verranno scelti dal comitato che si è appena costituito a questo scopo l'intento è comunque quello di mantenere alta l'attenzione su un alluvione hanno ripetuto più volte durante la presentazione che è stata dimenticata dallo stato ancora a campi bisenzio c'è il fango per strada l'impegno degli artisti hanno spiegato massini e pelù andrà ben oltre il 3 gennaio perché la ricostruzione sarà lunga e il pericolo che cada nel dimenticatoio alto la presenza di fiorella mannoia vuol dare un respiro anche nazionale all'emergenza ma ci saranno molte iniziative anche come segnali di normalità ad esempio il 25 novembre alla copp di campi bisenzio che riaprirà a inizio settimana prossima verranno regalate decorazioni natalizi agli alluvionati quelle che quasi tutti hanno perso perché erano nelle cantine finite sott'acqua l'impegno di massini e pelù si concentrerà anche sulla biblioteca di villa montalvo devastata dalla marina che ha rotto l'argine proprio lì accanto il 3 dicembre saranno a leggere fiabe per raccogliere i 100 mila euro che servono a creare una struttura provvisoria da collocare nel foyer del teatro dante almeno per ricreare la biblioteca dei bambini eccoci qua bentornati torniamo a parlare delle prime pagine guardiamo repubblica firenze l'apertura in questo caso è diversa non saremo il cantiere nero la sinistra contro salvini le pene leader leghista riunisce i sovranisti a firenze nardella lancia una contro manifestazione europeista firenze non sarà il cantiere nero di salvini e marile pen attacca sui tra i primi su twitter sarà funaro la candidata sindaca in pectore del pd la città scenda in piazza per dire no all'onda nera invita qualche ora dopo ad una mobilitazione anche anti sovranisti il coordinatore della segreteria regionale andrea giorgio anche la sinistra sinistra è già pronta una manifestazione di protesta così come i 5 stelle pure italia viva alza le barricate la questione è un evento che salvini ha annunciato a firenze il 3 dicembre e probabilmente appunto questo è quanto almeno annunciato nardella ci sarà una contro manifestazione il 2 la manifestazione della lega vedrà arrivare a firenze alla fortezza da basso i leader della destra europea ci sarà anche la le pen stop e gli airbnb sei ricorsi contro il progetto nardella e comitato per la sicurezza la rabbia dei negozianti è quello di cui appunto abbiamo visto prima anche sul corriere della sera il corriere fiorentino le madri della patria all'eredità delle donne torna l'evento di della dandini dal 24 al 26 novembre e appunto di solidarietà agli alluvionati parla anche repubblica un'ora di lavoro donata agli alluvionati toscana in france di mannoia massini e pelù ovviamente ne dà conto anche repubblica e poi cartoline per schlein in mille con del re vogliamo le primarie questa è la notizia politica diciamo del giorno nei quotidiani locali perché ieri sera l'ex assessore cecilia del re ha fatto il suo evento un migliaio di persone presenti sarà a firenze con una cartolina proprio che veniva data a i partecipanti cara elli sembrava tipo c'è posta per te nel senso che gli arriveranno tutte queste cartoline al nazareno con le ragioni per cui i partecipanti alla convention della cecilia del re vogliono le primarie per noi ieri sera ha seguito l'evento eleonora barbieri che ha intervistato cecilia del re e la possiamo ascoltare il pd sembra non volere le primarie lei va avanti per la sua strada c'è un organo l'assemblea che è deputato a scegliere un metodo alternativo alle primarie che sono la regola del partito democratico e per non farle occorre un voto contrario dell'assemblea quindi ecco che penso che il partito democratico e non sono la sola a pensarlo perché c'è una voce importante all'interno del partito democratico tra fondatori del pd eletti in comune eletti nei quartieri che chiede questo momento di apertura alla città e di partecipazione lo ritiene importante perché è non solo parte della storia dell'identità del pd ma è anche davvero un'occasione importante per aprire un nuovo corso e dar vita a un dibattito pubblico sui temi e sulla selezione delle candidature stasera insieme appunto a un gruppo di esponenti del pd abbiamo voluto far sentire la nostra voce e abbiamo voluto spostare anche l'attenzione del dibattito dai nomi ai temi e quindi abbiamo coinvolto con noi un gruppo di cittadini e cittadine rappresentanti di associazioni docenti un sindaco appunto anche dell'area metropolitana che racconteranno dei progetti delle iniziative che si inseriscono all'interno di una visione di città e poi appunto chiediamo anche che il pd e la coalizione per la selezione della candidatura dia vita a delle primarie e quindi è stata un'idea anche fresca che c'è stata per portare all'attenzione della segretaria nazionale questa richiesta anche perché la segretaria chiuse qui la sua campagna elettorale grazie alle primarie è diventata segretaria nazionale quando ha vinto disse che non l'avevano vista arrivare ecco magari a me mi avevano vista arrivare e mi hanno fermato ragion per cui è come dire sono le primarie e sono i cittadini quelli che possano diciamo essere coinvolti altrimenti fa una lista civica non è una prospettiva non io sono un esponente del partito democratico e oggi qua sono con esponente del partito democratico ripeto che sono un gruppo anche sostanzioso abbiamo capito che c'è una differenza diciamo tra di posizione tra i vertici del partito e la base gli iscritti e le iscritte del partito democratico perché i vertici preferiscono non fare primarie la base degli iscritti ritengono invece che sia appunto come ho detto un momento importante quindi facciamo questa battaglia all'interno del partito democratico per una norma che è la regola ecco quindi e ad oggi ancora nessuno ha votato contro nel luogo deputato e allora continuiamo a sfogliare repubblica che parla anche il quotidiano la repubblica parla del comitato della sicurezza la rabbia dei negozianti lo abbiamo visto il natale è a rischio il presidente di conf commercio non vedere una reazione è mortificante più morbide invece le altre categorie altre cinque spaccate intanto nella notte li trovano ma li rimettono fuori un'altra notizia che è uscita ieri sera notizia di cronaca psicologo arrestato per abusi sessuali avrebbe approfittato di dieci pazienti primi episodi nel 2013 ma l'uomo avrebbe continuato fino a ora sette ragazzi erano minorenni l'indagine è partita grazie alla denuncia di una vittima all'epoca 14 anni il dottore è finito in carcere anche su questo abbiamo un servizio di Patrizio Ceccarelli lo dico per la regia è il numero 6 guardiamo arrestato a Montecatini Terme uno psicologo con l'accusa di abusi sessuali su minori che aveva in cura gli abusi sarebbero stati commessi dal 2013 al 2023 nei confronti di dieci pazienti di cui sette minori e tra queste quattro ragazze all'epoca dei fatti minori di 16 anni l'indagine condotta dalla polizia ha avuto origine dalla denuncia formalizzata nel gennaio 2023 da una vittima all'epoca dei fatti 14enne la ragazza avrebbe riferito agli inquirenti di aver conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri di presentazione organizzati da un istituto scolastico della provincia che frequentava volti a far conoscere gli obiettivi e la funzione di sportelli dedicati una volta attirata la simpatia di alcune giovani pazienti lo specialista le avrebbe sottoposte a terapia privata presso il proprio studio inizialmente insegnando alcune tecniche di respirazione e rilassamento e poi utilizzando tecniche irregolari che vertevano sul contatto fisico è in quelle circostanze che le vittime nel corso di alcune sedute nelle quali lo psicologo si estraiava accanto in una stanza attiva allo studio dove erano stati sistemati dai materassini avrebbero subito i palpeggiamenti A seguito dei gravi elementi raccolti attraverso testimonianze, analisi di supporti informatici e riscontri la procura ha richiesto al GIP di Pistoia l'emissione di una misura restrittiva in carcere considerata la reiterazione delle condotte negli anni il numero di vittime accertate è considerato che lo studio del professionista corrisponde allo stabile dove lo stesso dimora Ricominciamo dalla Nazione, dalle pagine però nazionali che riguardano anche la Toscana avevamo visto che la fotonotizia in prima pagina era proprio una foto di Emma Marrazzo che è la mamma di Luana Dorazio che morì a 22 anni nel 2001 in un'azienda del Pratese appunto se ne parla nelle pagine interne, ragazze morte in fabbrica, la madre di Luana non è cambiato nulla, serve una nuova legge la figlia perse la vita a 22 anni stritolata da un macchinario, la battaglia per introdurre il reato di omicidio sul lavoro intanto ha treviso appunto la tragedia dell'operaia per l'errore di un collega che ha riportato appunto sulle prime pagine dei giornali anche la vicenda di Luana Dorazio e poi Gianni e l'alluvione, il modello Arno contro il dissesto, ora soldi e coraggio un'intervista di Luigi Caroppo al presidente della Regione Toscana che è anche commissario straordinario per l'emergenza e che fa il primo bilancio e delinea le prospettive a due settimane dal disastro oggi è giovedì infatti appunto stanotte saranno passate proprio due settimane colpiti nel reticolo minore urgente un piano anche per le frane e poi appunto l'ora di lavoro, l'accordo con i sindacati che abbiamo visto anche sulle pagine locali altra questione anche toscana sulle pagine nazionali, pagamenti da bloccare, aziende in pressing con il governo tutti gli aiuti all'export, imprese colpite, oggi scade il termine per lo stop agli addempimenti fiscali occhi puntati sul consiglio dei ministri in programma in giornata Tajani illustra il pacchetto di finanza agevolata sul modello Emilia Romagna ma Tajani era appunto anche arrivato a Prato, lo vedete qui con il sindaco Biffoni per parlare con gli imprenditori, aveva promesso a 100 milioni di euro ovviamente per quanto riguarda il suo ministero il ministero degli esteri quindi riguardava le imprese che avevano un export di almeno il 3% e poi l'iniziativa appunto che vuole essere solamente un campanello, una sveglia diciamo per altre, per molte altre donazioni degli artisti per l'Uma Cinema Noia sul palco in concerto per aiutare la Toscana appuntamento il 3 gennaio al Tuscany Hall di Firenze se la prossima settimana scatta la prevendita da martedì scatterà la prevendita raccoglieremo fondi per aiutare le famiglie colpite lanceremo un allarme sulla crisi climatica e queste sono le pagine di Montecatini andiamo a vedere invece il Tirreno vediamo se troviamo subito l'edizione di Firenze scorriamo, no, allora vediamo eccola qua sempre per gli, avevamo visto già in prima pagina gli affitti per gli studenti, case introvabili e sempre più cari universitari costretti a spostarsi in periferia per una camera singola servono più di 50 euro e come spesso fa il Tirreno pubblica un'utile tabella riassuntiva su quello che sono i prezzi posti letto disponibili annui vedete a Firenze, Pisa e Siena Pisa un po' di più Firenze 1197 totale 3396 però soprattutto quello che interessa sono questi posti mancanti 1481 a Firenze 1060 a Pisa 773 a Siena naturalmente vengono prese in considerazione le tre città universitarie i prezzi delle camere si va da una singola che costa sui 500 euro a una doppia 250 più o meno gli stessi prezzi anche a Pisa e appunto a Pisa mancano mille posti letto un approfondimento che fa il Tirreno e poi ancora la pagina sugli imprenditori esperti politici la sostenibilità e il futuro l'evento abbiamo detto che si svolge ieri ma anche oggi a Palazzo Vecchio e un approfondimento sull'evento ma soprattutto naturalmente su il pianeta e come salvarlo la transizione deve essere graduale e di buonsenso no alle ideologie green questo è il ministro Salvini che chiude la prima giornata dell'evento in collegamento lo vedete in Palazzo Vecchio per accompagnare la transizione energetica occorre gradualità, buonsenso non occorre ideologia troppo spesso negli anni passati si è usato a sproposito l'aggettivo green quindi benvengano iniziative come questa dove si confrontano idee diverse dice Salvini e per quanto riguarda invece il programma di oggi dalle 10 alle 13 tavole rotonde e dialoghi per conoscere le strategie delle imprese ma ieri era presente anche il presidente del National Geographic Society raccontare la scienza attraverso le storie è questo il metodo del National Geographic sono circa 3.000 gli esploratori dell'organizzazione che aiutano a definire i problemi globali riscaldamento globale, corsa alle risorse primarie come acqua ed energia estinzione della specie, mari in aumento, lotta per l'aria pulita sono solo alcuni e già basterebbero questi dei fenomeni a cui il nostro pianeta è sottoposto fenomeni che mineranno in modo permanente la nostra salute e graveranno sulle generazioni future Ian Miller, responsabile appunto della scienza e innovazione del National Geographic ha intervenuto ieri in questo momento anche di riflessione su quello che urgentemente va fatto un'ora di lavoro da destinare alle famiglie e imprese alluvionate l'accordo siglato in regione i datori di lavoro potranno raddoppiare su questo possiamo vedere il nostro servizio che lo dico per la regia è il numero uno un'ora di lavoro per gli alluvionati è l'iniziativa di solidarietà dopo gli eventi del 2 e 3 novembre che hanno colpito la Toscana l'accordo è stato siglato oggi dalle categorie economiche e sociali e si fonda sull'adesione volontaria liberamente lavoratrici e lavoratori potranno infatti scegliere di devolvere al fondo di intervento per la popolazione toscana un'ora del proprio lavoro e liberamente le aziende potranno aggiungere di tasca propria altrettanto l'iniziativa interessa non solo i lavoratori del settore privato ma anche quelli del pubblico poi decideremo tutti insieme verranno queste risorse a confluire sul conto della protezione civile ma noi vogliamo che non servano certo per le somme urgenze quelle ci provvederemo con gli investimenti pubblici ma proprio per il supporto e sostegno alle famiglie e alle imprese oggi abbiamo identificato 60 comuni che sono quelli che hanno avuto maggiori danni fra le 5 province di Pisa, Livorno, Firenze, Prato e Pistoia 60 comuni per attivare attraverso il loro sindaco la ricognizione dei danni sia alle persone che alle imprese sia ai beni pubblici che hanno subito danni continuiamo a sfogliare i quotidiani andando ad altre notizie torniamo sul Corriere Fiorentino la cui pagina sportiva è questa Viola d'Arabia, Supercoppa, a giorni la dirigenza volerà a Gedda e Montepremio e calendario come cambia l'agenda questa è la prima pagina sportiva del Corriere Fiorentino che parla anche di quella che titola la buona notizia corsa, sudore e sorrisi, così Dodò brucia le tappe dopo l'infortunio al ginocchio la stagione sembrava finita ma ora dice torno a gennaio leggiamo brevemente l'incipit dell'articolo lo avevamo lasciato in lacrime con un volto che non lasciava presagire niente di buono infatti 24 ore dopo il report della società fu una specie di mazzata lesione del legamento crociato anteriore una sentenza dura che in un primo momento ha fatto pensare a tutti che la stagione di Dodò fosse sostanzialmente già finita e che nella migliore delle ipotesi il tersino brasiliano potesse tornare a fine aprile appena in tempo per il rush finale eppure fin da subito lui si è ribellato a quello scenario e infatti adesso appunto la buona notizia che lo riguarda per quanto concerti invece la cultura sempre sul Corriere Fiorentino questa è una pagina dedicata allo scienziato che parla con noi Leonardo da Vinci e l'approfondimento viene fatto grazie a un libro un pensatore sistemico ma anche ecologista e ecodesigner il fisico e saggista Capra a Palazzo Vecchio con il volume che getta nuova luce sul genio e pubblichiamo appunto una sintesi dell'Alexio che c'è stata in Palazzo Vecchio altra questione diciamo culturale che è un po' anche su tutti i giornali questo è il Corriere Fiorentino la Dandini all'eredità delle donne porteremo messaggi di pace il festival si svolge dal 24 al 26 novembre con oltre 50 ospiti da Carola Rachete al Nobel Romansova guida il programma fiorentino e qui appunto c'è un po' tutto il carnet degli eventi ma è un evento che appunto si ripete ormai come da tradizione a Firenze nelle giornate che girano intorno al 25 novembre che è la giornata della lotta alla violenza contro le donne dalle madri costituenti fino alle donne di oggi che fanno la differenza e continuano a scrivere la storia dedicata a Madri della Patria la sesta edizione dell'eredità delle donne il programma è online e dice Serena Dandini come da sempre nel suo corredo genetico il festival porta in primo piano la voce delle donne impegnate nei processi di pace lei è direttrice artistica appunto di questa tre giorni a cominciare appunto ci sarà l'inaugurazione al Nicolini con Muse e Madri un ripasso delle conquiste femminili a cui parteciperanno tra le altri Ev Ensler autrice dei monologhi della vagina e poi naturalmente ci sono tutti gli appuntamenti altra notizia Green Factory largo al pensiero sostenibile da oggi a domenica incontri, libri, iniziative per bambini ha ingresso gratuito il Green Factory è realizzato con il sostegno del Comune di Firenze e anche alia servizi ambientali Firenze e città circolare e pubblica con ingresso libero con prenotazione sul sito andiamo a sfogliare ancora invece la Repubblica vediamo anche le altre pagine che prima non avevamo visto eccola qua Repubblica Firenze sfogliamo velocemente dove siamo già passati queste sono notizie che appunto vediamo praticamente su tutti i giornali ma questa approfondiamola un attimo perché è una questione che appunto riguarda Firenze i sei ricorsi contro il progetto di Nardella almeno cinque ricorsi collettivi presentati in una manciata di ore e una data cerchiata di rosso il 7 dicembre quando secondo le previsioni degli avvocati che hanno seguito le istanze potrebbe arrivare la decisione del Tribunale sono stati depositati negli ultimi giorni i ricorsi dei principali player nel campo degli affitti brevi una cinquantina tra privati e società i ricorrenti dicono l'obiettivo è ottenere una sospensiva alla variante urbanistica voluta dal sindaco Nardella per mettere un freno al turismo mordi e fuggi il provvedimento che blocca le nuove registrazioni di appartamenti nell'area Unesco una misura che nel giro di tre mesi aveva scatenato la corsa alle registrazioni passate da giugno a settembre da 9.600 a 13.700 la differenza che potete fare da soli ovviamente riguarda quelli che evidentemente non erano in regola i cinque ricorsi che seguono quello presentato nelle scorse settimane dal Codacons sono stati studiati da alcuni tra i più noti avvocati e amministrativisti quindi vedremo appunto come andrà a finire il dell'eredità delle donne parla anche ovviamente Repubblica con un approfondimento violenza di genere odio e paura una sfida dalla psicologa che è appunto un monologo che farà parte del programma e poi ancora da De Simone un elisir nel laboratorio dei giovani talenti il baritono allena gli studenti dell'opera di Donizetti in scena al teatro del Giglio e poi ancora il maggio che lo sapete è stato ci sono state delle delle defezioni per quanto riguarda alcuni scioperi degli orchestrali intanto Bohème cinque recite complete andiamo avanti vediamo come la Repubblica presenta la sua pagina sportiva Mercato Viola volti nuovi e rientri gennaio di scosse il DG Barone conferma pronti a intervenire presto le prime trattative intanto piace l'argentino della Vega caccia a un difensore e si rivede Castrovilli anche qui leggiamo l'incipit almeno del pezzo di Duccio Mazzoni Mercato siamo preparati non posso dire oggi nomi su cui puntiamo vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi siamo preparati per intervenire e cercare di migliorare la squadra la missione che sarà un gennaio di movimenti arriva direttamente dal direttore generale della Fiorentina Gio Barone a margine di un evento organizzato con le scuole al centro sportivo un messaggio criptico ma fino a un certo punto se sui nomi ci sarà la melina necessaria per evitare di bruciare qualche trattativa nella testa dei dirigenti vi è la consapevolezza che una stagione che vede i viola a ridosso delle posizioni di vertice debba essere accompagnata da un mercato di gennaio all'altezza in cui poter cogliere le occasioni per non avere rimpianti sì perché al di là del grande merito di italiano e del lavoro di crescita di tanti giocatori la Rosa ha bisogno di essere puntellata in alcuni reparti visto anche che da gennaio in poi la Fiorentina oltre al campionato avrà la fase finale di Conference League la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana ecco quindi che qualche rinforzo di gioco dice Mazzoni sarà necessario e la cultura proprio accanto allo sport anche nell'impaginazione di Repubblica Firenze giorno e notte è la rubrica e il pezzo che vi proponiamo è questo Teatro Verdi il Lago dei Cigni non solo tutù una fiaba nera da palcoscenico il coreografo Fabrizio Monteverdi ha stravolto il classico della danza nel cast anche Carola Puddu e dice Fulvio Paloscia non è il Lago dei Cigni solo in tutù e quando c'è ha i tratti di una presenza tutt'altro che leziosa non si danza neppure sulle punte come nelle sue corde il coreografo Fabrizio Monteverdi ha stravolto il classico della danza riscrivendolo da capo a piedi un capolavoro di Tchaikovsky è condensato in una fiaba nera breve e emotivamente intensa dura poco più di un'ora infatti che narra la fatica di una compagnia di anziani ballerini costretti a mettere in scena la storia di Odette Odile e del principe innamorato come una specie di condanna inseguiti dal cecoviano fantasma della giovinezza quindi insomma una rivisitazione di questo grande classico del lago dei Cigni torniamo adesso a vedere brevemente alcune pagine diciamo di altra cronaca locale iniziando no ecco vi faccio vedere perché non l'avevamo vista prima scusate visto che abbiamo parlato anche di sport vi faccio vedere la prima pagina della gazzetta dello sport Italia vai a rete alle 21 le finals del tennis domani gli azzurri per l'europeo questa doppia impaginazione tra il campione del tennis e appunto la nazionale da no la runne il paese scopre la Giannik Mania e Raspadori Chiesa e Berardi ora o mai più con la Macedonia e l'Ucraina appunto io direi che se la regia è d'accordo prima di passare magari ad altre pagine delle edizioni locali vedremo anche ovviamente il sito di Notizia di Prato potremmo andare in pubblicità fermarci un attimo adesso e poi continuare insieme un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan tra Calenzano e Barberino in A1 in direzione Bologna ci sono cose attratti per traffico intenso a causa di smottamenti e frane sono chiuse le seguenti statali la 2 Cassia a San Quirico la 12 della Betone e del Brennero a Borgo Ammozzano e la 62 della Cisa nel comune di Aulla e Pontremoli Massa Carrara ecco alcuni dei cantieri in corso a Firenze riqualificazione di via Guelfa asfaltature in via Villamagna lavori alla rete idrica in via Elefanti e via San Carlo e lavori relativi all'illuminazione pubblica in costa San Giorgio e in via della Pietra si ricorda che per i trasporti domani mattina è previsto uno sciopero di 4 ore per i treni ci possono essere disagi anche prima e dopo la fascia della protesta Morersi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze buon viaggio L'Ustrino Flortec per trattamenti di ogni tipo di pavimento lavaggi di fondo e di fine cantiere chiama lo 0574 19 40 524 c'è un motivo per andare al Bar Valentina no ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina dalle colazioni meravigliose alle cioccolate ai cioccolatini ai panini più buoni di tutta Prato ai pranzi veloci e poi si sa al Bar Valentina si pagano le bollette si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo Bar Valentina a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30 la domenica dalle 6 alle 13 ma che vuoi di più Bar Valentina seguici su Facebook il ristorante Puccini 20 collegato all'hotel Esplanade si affaccia sulla splendida piazza Puccini a Via Reggio il nome e l'opera di Puccini attraversano l'ampio salone del ristorante con un arredamento fresco e moderno i nostri ospiti vivranno un'esperienza unica per se stessi per un evento privato o di lavoro in ogni occasione assaporeranno il piacere del buon cibo materie prime di qualità ricercatezza negli abbinamenti gusti comprensibili e delicati pensati dal nostro chef Alessandro Pezzi che fondono la tradizione toscana e italiana con un soffio di internazionalità Buongiorno ben ritrovati che ricontinuiamo la nostra lettura dei quotidiani andando a un approfondimento pratese iniziando da Notizie di Prato il nostro sito che ha un focus proprio particolare sulla città laniera e l'apertura è questa alluvione sospeso il pagamento dei mutui ecco come fare per chiedere lo stop alla propria banca Conf Consumatori Toscana spiega come stoppare il versamento della rata come regolarsi con le bollette di acqua luce e gas e come rapportarsi con le assicurazioni che se si è stati danneggiati dal maltempo il 2 novembre altra notizia che però riguarda l'alluvione la conta dei danni in Val di Bisenzio solo a Vaiano 1 milione e 400 mila euro cospicoli risorse che devono essere utilizzate per il rifacimento dei ponti che in alcuni casi sono stati letteralmente spazzati via dalla violenza piena il centro operativo intercomunale della protezione civile ha gestito oltre 900 richieste di intervento in arrivo da cittadini e imprese un numero enorme che dà il senso dell'eccezionalità dell'evento ma lo sport è un po' sport e un po' cronaca diciamo anche su Notizie di Prato perché calcio il derby si tinge di arancione la Pistoiese batte il Prato 3 a 1 ma c'è stata una contestazione dei tifosi 1600 a lungo Bisenzio per l'attesa partita ospiti in vantaggio dopo un minuto o poco più il tifo organizzato della Pistoiese non si è presentato in segno di protesta per la limitazione di solo 100 posti allora adesso volevo dare un'occhiata alla Nazione di Prato ma aspetterai un attimo perché credo di aver visto chiedo conferma alla regia in collegamento con noi Simone Pitossi per parlare di Toscana Oggi Simone mi senti? ecco ci sei si 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 ti sento benissimo Chiara buongiorno benissimo buongiorno e grazie a te di averci raggiunto questa mattina allora ho aperto il settimanale Toscana Oggi faccio vedere una prima pagina poi approfondiamo anche qualche bella storia che avete pubblicato tra l'altro è una prima pagina con un sacco di date diciamo da ricordare intanto l'apertura sulla giornata dei poveri un invito ad agire lo ricordiamo insomma c'è la settima edizione della giornata mondiale dei poveri sarà il 19 novembre poi mi correggerai se sbaglio appunto c'è un messaggio proprio del Papa non distogliere lo sguardo nei giorni scorsi anche ha sottolineato questo poi un 60 anni fa l'attentato di Kennedy era proprio il 22 novembre del 1963 l'omicidio di Kennedy voi lo ricordate ma anche con altre storie ma a questo punto ti ti interpello diciamo soprattutto per quanto riguarda il focus che fate sulla povertà c'è un'intervista anche su su Toscana oggi Angelo Comastri al Cardinale Comastri che è vicario generale merito del Papa per la città del Vaticano ma poi anche una storia della quale chiedo conto proprio a te l'albergo di Assisi che accoglie gratis gli ospiti della Caritas sì questa è veramente una bellissima storia che nasce nella città di Assisi la città di San Francesco il santo che tutti nel nostro immaginario vediamo più vicino ai poveri alle persone che hanno bisogno ecco nella città di Assisi la signora Cristina Gorietti si chiedeva come che gestiva un albergo nella città si chiedeva come poteva aiutare le persone più bisognose ecco nel 2015 ha chiamato la Caritas di Firenze e si è messa a disposizione e dal 2016 la signora la signora ospita nel suo albergo gratis ovviamente le persone che sono ospiti a qualsiasi titolo della Caritas Fiorentina sono ospiti della mensa sono ospiti delle varie case d'accoglienza purtroppo è iniziata nel 2016 poi si è fermata prima per il devastante terremoto che ha colpito l'Umbria e poi dopo si è fermata questa iniziativa per la pandemia ma ora è ripresa veramente in maniera molto molto attiva e proprio in questi giorni si è concluso ieri uno di questi soggiorno 60 ospiti della Caritas di Firenze sono stati ospitati per l'appunto nell'albergo della signora Cristina che non solo ovviamente gli ha ospitati gli ha andato a mangiare ma poi si è fatta parte attiva nel fargli visitare la città e tutti i luoghi più significativi di San Francesco gli ha fatto proprio seguire le orme di San Francesco nella città di Assisi ecco infatti mentre parlavi abbiamo fatto vedere proprio la fotografia che avete pubblicato in cui si intravedono molti molti sorrisi davvero naturalmente si parla anche di pace su Toscana oggi sono in questo momento a pagina 5 i cristiani la pace 50 anni di interventi per dire no alla guerra tra l'altro per fare un collegamento proprio per fare la pace d'Assisi il cardinal Zuppi ieri proprio ha lanciato questo grido contro la guerra proprio da Assisi è stato proprio Zuppi tra l'altro per ritornare un attimo alla notizia di prima che ricordava come il 9,7 della popolazione è povero e appunto a proposito di pace sappiamo che viviamo in una città insomma in cui ci ricordiamo tutti del sindaco Lapira sto facendo vedere proprio l'approfondimento i cristiani e la pace 50 anni di interventi per dire no alla guerra ci sarà un appuntamento importante il Duomo il 21 novembre Simone sì certo è collegato alla Pira e non solo quando appunto hai citato poco fa il titolo di apertura della pagina il cristiano della pace 50 anni di interventi per dire no alla guerra questo intervento noi l'abbiamo chiesto a Mario Primicerio tutti conosciamo Mario Primicerio è stato anche sindaco di Firenze ma è stato uno dei collaboratori più stretti proprio di Lapira ecco lui ci ha detto quanto Firenze sia veramente sempre al centro del dialogo e poi come facevi notare in questo box noi siamo anche parte attiva di questa iniziativa perché il 21 novembre martedì prossimo ci sarà nel Duomo di Firenze una lettura di testi una lettura di testi di persone che in vario modo a vario titolo hanno dedicato la loro la loro vita la loro opera per la pace prima di tutto Giorgio Lapira il sindaco di Firenze ma poi anche Don Giulio Facibeni e il cardinale Elia Dallacosta ecco noi vogliamo appunto ricordare quanto sia importante la pace in questo momento in cui la pace è messa a rischio in tutto il mondo perché noi in questo momento abbiamo negli occhi le immagini terribili ecco della Terra Santa dove c'è questo conflitto in atto avviato in questo momento da Hamas ma dove anche Israele sta martellando per rispondere a questo attacco la striscia di Gaza oppure non possiamo dimenticare ancora il conflitto dell'Ucraina che si è trovata appunto sotto attacco dalla Russia e tutte le guerre in questo momento attive purtroppo nel mondo ecco lo vogliamo fare ricordando che è possibile sempre trovare una strada per la pace attraverso le parole di questi grandi testimoni volevo ricordare solo quello che diceva proprio Giorgio Lapira e ce lo ricorda Mario Primicero Lapira diceva che alla pace non c'è alternativa e che il fine della storia avanza inevitabilmente anche attraverso ansie dolorose verso la foce della pace unità e promozione dei popoli per cui era un grande ottimista ma non era un utopista Giorgio Lapira ci indicava la strada ecco lo facciamo con questa iniziativa in Duomo a Firenze martedì prossimo 21 novembre a partire dalle ore 15 di 21 e 15 è un'iniziativa aperta a tutti Simone ti porto un secondo in una riflessione che se tu riuscissi a darci una risposta avremmo trovato la quadratura del cerchio ma appunto dicevi come le parole di Lapira ma non solo hanno sempre indicato una via il problema è poi seguirla facevi riferimento prima alla guerra in Ucraina ci ricordiamo tutti che la guerra in Ucraina scoppiò esattamente quando a Firenze si teneva il vertice dei Vescovi e poi anche dei Sindaci proprio del Mediterraneo sulla pace sembrava una contraddizione in termini e i saggi diciamo gli illuminati chiamiamoli come vogliamo indicano spesso una via perché è così difficile insomma senza arrivare addirittura al Papa che naturalmente ogni domenica ma non solo non smette mai di invitare alla pace tutti invitare tutti alla pace perché non riusciamo a seguirla questa via dei saggi secondo te perché purtroppo molto spesso siamo prese dalle cose più immediate più terrene e a proposito di terrene di terra magari vogliamo un pezzo di terra in più appunto citavi la guerra dell'Ucraina dove veramente lì la questione ma come anche in Terra Santa tra Israele e Palestina si gioca veramente su una striscia in più o in meno di terra e perdiamo forse l'orizzonte che dovremmo invece guardare che è quello che probabilmente ci dovremmo accontentare ogni ogni iniziativa che ci porta a volere per forza prevaricare sul nostro vicino poi ci porta a una spirale senza fine insomma e quindi dovremmo guardare appunto come dicevi tu alle parole del Papa alle parole di quelli che ci hanno indicato una via che come appunto dicevo prima la Pira era sicuramente uno un personaggio che era ottimista ma non un utopista non pensava assolutamente infatti il 21 sarà senza altro un'occasione importante per riascoltare le sue parole e a proposito di terra ma di iniziative invece personali come si fa a trovare la pace intanto facendo del bene come stanno facendo i moltissimi giovani che in questi giorni abbiamo testimoniato anche noi in Toscana nella Toscana alluvionata gli angeli del fango i piccoli grandi angeli del fango voi raccontate proprio la storia di una scolaresca particolare che è partita proprio da c'è una compagna in difficoltà andiamola ad aiutare sto facendo vedere la pagina il dopo alluvione gli amici di scuola a spalare fango in casa di Alice Simone sì questa è una bella storia abbiamo appunto trovato è una bella cosa perché ci sono stati tantissimi ragazzi che si sono mossi ed è una cosa bellissima che i nostri i nostri giovani proprio quelli che in questo momento dovrebbero cominciare a costruire il loro futuro e il futuro della nostra della nostra città delle nostre città questo invece è proprio una classe intera che di fronte al grido d'aiuto di una loro compagna Alice di 17 anni che appunto come sappiamo molte persone si è trovata a dover affrontare una una situazione incredibile ovvero non avere più di fatto una casa per una notte per anzi poi per diversi giorni perché è stata invasa dall'acqua e poi dal fango grazie al coordinamento di un professore Biagio Olivito che è docente di chimica all'istituto Leonardo da Vinci proprio di Firenze si sono ritrovati insieme hanno detto insieme andiamo a dotare la nostra compagna di scuola tra l'altro che è anche una situazione difficile perché la madre è disabile per cui veramente si sono messi lì e ogni giorno sono andati a spalare fango nella casa della loro amica e si sono trovati appunto a dire che a un certo punto non erano loro ad aiutare Alice ma era Alice ad aiutare loro perché nel fare del bene come si diceva poco fa alla fine troviamo anche un nostro la nostra realizzazione un nostro obiettivo benissimo tra l'altro proprio nella pagina dedicata all'alluvione parlate degli archivi storici della Toscana ce ne siamo occupati anche noi praticamente sono archivi di amministrazioni pubbliche che sono andate finite sott'acqua in gran parte servivano celle frigorifere per congelare diciamo il fango e poi magari cercare di recuperare gli archivi molto velocemente prima di salutarti faccio comunque scorro la Toscana oggi perché l'abbiamo visto l'abbiamo detto prima 60 anni fa l'attentato il presidente Kennedy che sognava anche lui appunto di cambiare il mondo ma poi anche di nuovo pace, lavoro, questioni ambientali riforme istituzionali la relazione del cardinale Zuppi alla CEI naturalmente l'abbiamo detto prima la pace è stata al centro ma poi anche approfondimenti che appunto di cui date conto sul vostro giornale tra cui io lo segnalo perché mi fa piacere il documento del Vaticano proprio sui transessuali coppie gay battesimo dei bambini cosa ha detto la Chiesa perché insomma magari anche all'interno della Chiesa a partire da un evento avvenuto in Brasile qualcosa forse sta cambiando Simone vuoi aggiungere altro diciamo su questa presentazione che abbiamo fatto sottolineare qualche pagina volevo volevo precisare quello che stavi dicendo proprio su questa pagina quella del battesimo dei bambini di fatto questa è un documento Vaticano sono delle risposte che il Vaticano ha dato a un vescovo a questo vescovo brasiliano non c'è diciamo niente di nuovo rispetto a quello che già in questo momento è in atto ovvero l'interesse principale è quello in questo caso del bambino che quindi chiunque siano i genitori del bambino anche se una coppia gay il massimo interesse deve essere quello del bambino che ha diritto ad essere battezzato e questo chiaramente la Chiesa lo ribadisce in maniera molto chiara in questo caso e noi ci siamo affidati per questa riflessione a padre Maurizio Fagioni che è un frate minore ma soprattutto è laureato in medicina e ha un dottorato in teologia morale lui ci mette veramente punto per punto chiarisce quali sono queste questioni e insomma ecco apre un orizzonte ma di fatto di fatto nulla cambia no no infatti è chiarissimo anche l'articolo però è interessante segnalarlo per chi volesse proprio approfondire anche la questione Simone io ti ringrazio davvero di essere stato con noi questa mattina abbiamo volentieri fatto vedere il settimanale appena uscito grazie Simone buona giornata buona giornata anche a te e a te spettatori allora proseguiamo invece con la nostra lettura eravamo rimasti alla nazione di Prato abbiamo interrotto naturalmente perché c'era l'ospite in attesa ma continuiamo a parlare appunto di Prato e l'apertura della nazione della costola della nazione che riguarda Prato è questa corsa per bloccare subito le tasse oggi le prime scadenze anche per le imprese alluvionate avevamo vista proprio questa notizia ovviamente anche sulle pagine nazionali il pressing dei parlamentari proroga in arrivo il rebus dei ristori appunto la fotonotizia e Confindustria Romagna a sei mesi dal disastro i soldi promessi non si è visto nulla Confindustria Romagna naturalmente è un po' il faro a cui guardiamo anche noi in Toscana perché quello che è avvenuto a maggio in Emilia Romagna ovviamente è molto simile a quanto è avvenuto da noi soprattutto speriamo non sia simile per quanto riguarda la celerità dei rimborsi auto e garage alluvionati potrebbero essere esclusi mutui sospensione per 12 mesi tutti i comuni della provincia nell'elenco regionale dei territori più colpiti della tempesta i cittadini vogliono sapere come avere i risarcimenti ma ancora non ci sono risposte perché la regione appunto ha fatto proprio un elenco preciso dei comuni continuiamo a sfogliare proprio la nazione di Prato le imprese romagnole appunto lo dicevamo prima danni per 200 milioni ma dei soldi promessi non è arrivato nulla mentre sulle tasse in scadenza i parlamentari pratesi il pressing sul governo proroga in arrivo oggi il consiglio dei ministri perché è l'ultimo giorno per rinviare i pagamenti la disponibilità c'è dice fratelli d'Italia manca un documento della regione le aziende sono in attesa intanto il commercio dice dover pagare sarebbe assurdo continuiamo a sfogliare la nazione di Prato i furbetti dei rifiuti perché naturalmente c'è anche questo dramma nell'alluvione nel post alluvione di scariche nelle strade basta via ai controlli in varie zone della città sono stati ammassati ingombranti che però non presentano i segni di fango e acqua alia tolleranza zero per gli incivili non basta vedere una città ferita dalla furia del maltempo nella sciagure c'è sempre chi si approfitta della situazione Prato non fa eccezione ma insomma anche la questione degli sciacali in questi giorni abbiamo visto veramente storie davvero raccapriccianti per chi si approfitta anche del momento di difficoltà acqua dentro i rodari inagibili alcune aree province al lavoro per riparare il tetto infiltrazioni dai lucernari è necessario bloccare l'accesso in certe zone dell'immobile di via Galcianese finiamo di sfogliare anche proprio la nazione di Prato Val Bisenzio alla conta dei danni interventi urgenti per 2,2 milioni stanziate risorse solo nostre sono 70 le criticità da risolvere il prima possibile le franne restano il problema maggiore i sindaci intanto dicono mettono urgenza perché dicono ci sono lavori indifferibili fatti salti mortali per trovare i fondi necessari nei nostri bilanci e poi il comune intanto a Montemurlo uno dei comuni più colpiti annulla la festa dell'olio a Oste da oggi torna intanto l'elettricità finalmente sono passate ricordiamo due settimane e poi vi diamo conto di questa notizia un libro per Francesco tutti in utile ora online il fratello Giovanni ripercorre le tappe di una vita di amore di dolore e in biblioteca a Calenzano ci saranno anche due serate per ricordare Cecco con Federico Berti ancora proteste per gli autobus a Prato uno di sé arrivare al lavoro i nuovi orari sempre nel mirino la protesta di una cittadina che doveva andare a Firenze e appunto non ce l'ha fatta diciamo così già che ci siamo guardiamo anche l'apertura della Nazione di Siena assicurazioni truffate 11 a processo è l'apertura della Nazione di Siena erano 30 gli imputati a giudizio anche un infermiere e il titolare di un'agenzia di pratiche di infortunistica e patto sui migranti è invece la fotonotizia reddito troppo alto revocati dalla Prefettura 150 posti nei Cass soluzioni per liberare il parcheggio in Duomo no scusate abbiamo riapriamo un attimo il programma volevo dare un'occhiata alla alcune pagine locali del Tirreno vediamo se ce la facciamo no ok alcune pagine locali del Tirreno che naturalmente riprendono riprendono notizie già già viste anche negli altri quotidiani anche quelli nazionali ma ci sono appunto eccoci qua ci sono appunto alcune specificità per quanto riguarda le varie province ad esempio non abbiamo visto quella di Grosseto vediamola subito stretta sui telefonini al volante nel 2023 multe quintuplicate partuglia in borghese da gennaio a settembre 377 sanzioni vediamo invece la pagina di voglio trovare una pagina locale di Livorno e Pisa eccola qua Pisa Pontedera siamo sul Tirreno muore musicista di 46 anni la procura apre un'inchiesta gli amici temono che sia finito in ospedale dopo un pestaggio è appunto la notizia di apertura della del Tirreno di Pisa il nostro tempo a disposizione è terminato ma io vi ringrazio moltissimo di averci seguito fin qui e vi auguro una splendida giornata grazie a tutti